ciao amici finalmente si parla di salute della prostata anche sulle riviste sul web e in tv non più solo in ambulatorio a porte chiuse beh era ora dico io perché alla prostata bisogna pensarci a casa tutti i giorni mica solo dal medico oggi vediamo un alimento particolare che fa molto bene alla prostata sono i funghi reishi vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video che roba sono questi reishi sono un rimedio naturale antichissimo riconosciuto dalla scienza moderna i reishi contengono polisaccaridi peptidi e triterpenoidi oltre a fibre minerali vitamine e amminoacidi è questo profilo nutrizionale a renderli così amici della salute e della prostata vediamo insieme alcuni di questi benefici ovviamente sostenuti da studi scientifici autorevoli pronti via 1 i reishi possono aiutare in caso di cancro alla prostata e prostata ingrossata e non solo se volete conoscere altre strategie naturali amiche della prostata ho preparato un ebook ricco di consigli pratici il link è in descrizione 2 sono un aiuto concreto per prevenire e combattere il cancro in generale 3 sono efficaci per rafforzare il sistema immunitario e le difese di tutto il corpo 4 combattono stress affaticamento e perdita di memoria contro l'alzheimer 5 ottimi per le arterie ostruite e i livelli alti di zucchero nel sangue 6 combattono le malattie del fegato i disturbi renali e le ulcere allo stomaco 7 contrastano la comparsa di herpes labiale genitale e papilloma virus della bocca 8 si utilizzano in caso di cancro ai polmoni e nel trattamento per l'epatite b 9 efficaci anche per asma bronchite e sintomi alle vie respiratorie 10 sono impiegati per infezioni virali hiv e sindrome da affaticamento cronico 11 favoriscono un buon riposo e recupero delle energie ma tutti questi benefici in un solo fungo affascinante vero la natura ci offre tanti strumenti per stare bene e parlo di rimedi veri dagli effetti benefici dimostrati con studi scientifici per questo ho dedicato la mia vita allo studio e alla divulgazione della naturopatia e della salute naturale la terapia con i funghi si chiama micoterapia e funziona davvero il modo migliore di assumere il fungo reishi è concentrato in capsule per avere più benefici se volete provarlo ho messo a disposizione un link a un prodotto sicuro e di qualità e se volete sostenere la salute della prostata con soluzioni naturali contattatemi per una consulenza di naturopatia vi aiuterò volentieri amici avete visto è possibile stare meglio assumendo i funghi reishi e per vedere tanti altri video sui migliori alimenti e rimedi per la salute e la bellezza è facile iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche per sostenere il mio progetto di divulgazione di salute naturale abbonatevi al canale avere cura della salute è importante anche per i vostri amici condividete questo video può essere utile vivi consapevole e vivi meglio con la naturopatia di simona vignali